E' iniziato il racconto alla rovescia per il palio di Tananto che si svolgerà nel pomeriggio dell'8 maggio nelle acque del canale navigabile con diretta di Antenna Sud prima della processione a mare di San Cataldo. Il primo atto, secondo tradizione, è stato rappresentato dalla funzione religiosa e dalla benedizione della remo che si è svolta nella piazza d'armi della Castello Aragonese, nell'assegno dell'emozione, dell'amicizia, della sana competizione, come testimoniano le parole della patronna Francesco Simonetti e dell'assessore alla cultura della comune di Taranto Angelica Lussoso. Con questa cerimonia apriamo praticamente le manifestazioni del palio di Taranto che, come ormai tutti sanno, l'8 maggio c'è la prima regata in onore del santo padrone della città di Taranto. Un evento che consolida la nostra idea che è quella di portare questa regata storica con lo sport ma anche con il turismo perché il palio di Taranto ormai a livello nazionale e non dico a livello internazionale si pone ai primi posti come evento spettacolare della città di Taranto. Noi siamo fieri di essere accanto all'organizzazione del palio di Taranto e l'anno prossimo per il quarantesimo anno ci auguriamo di fare una festa degna di questo grande evento. Eccoci qui, siamo nuovamente in diretta con il nostro nuovo ospite in studio con il quale parleremo del 39esimo palio città di Taranto. L'appuntamento è per domani. Grazie a Francesco Simonetti che è il presidente di questo evento particolarmente importante per la città ionica. Cosa rappresenta per Taranto il suo palio? Allora, per Taranto sicuramente è uno degli eventi più importanti perché intanto ha quasi 40 anni di storia. Abbiamo ideato questo palio nel 1986 e per 39 anni, quest'anno festeggiamo il 39esimo anno, non ci siamo mai fermati neanche in tempi di pandemia. Beh anche perché le attività del mare, il mare consentiva di essere liberi. Esatto, ma soprattutto perché i nostri atleti, col fatto che sono atleti di interesse nazionale, hanno potuto fare la regata e chiaramente questa cosa ci ha dato lustro in tutta la nazione, tant'è vero che il palio di Taranto è nato come un evento sportivo, ma sicuramente nel corso degli anni l'abbiamo trasformato anche in un evento turistico. Il palio di Taranto è conosciuto anche in città importanti come Venezia, Livorno, Genova, Reggio Calabria. I nostri atleti stanno girando praticamente tutta la nazione. E per quanto riguarda lo sport del mare, noi facciamo anche attività in palestra, abbiamo dei remergometri e proprio quest'anno una nostra atleta ha partecipato a una gara indoor e ha vinto una medaglia d'oro a livello mondiale, è stata la prima italiana, su 36 partecipanti lei è stata la decima, però prima italiana. Per noi è sicuramente un momento di grande soddisfazione. Domani iniziamo questo evento e ci prepariamo per la grande festa, se naturalmente Dio vuole, per la grande festa dei 40 anni in occasione a Taranto e che sarà città capitale dello sport. Come si fa a portare avanti, a parte con tanta abnegazione e tanta passione, una manifestazione per 40 anni? Quanto sacrificio c'è Presidenta? Sicuramente tantissimo sacrificio, la mia forza è quella comunque di dover saltare tanti ostacoli, ma grazie alla collaborazione che ci accompagna, la Marina Militare, il Comune di Taranto, ma anche le forze dell'ordine a mare, tipo Guardia di Finanza, Guardia Costiera, che hanno visto in questa manifestazione una manifestazione importante per la città di Taranto, che sicuramente è una manifestazione trainante per la bella immagine della nostra bella città, perché noi abbiamo una città bellissima, abbiamo due mari che possono essere utilizzati in qualsiasi condizioni meteo possibili. Domani infatti il meteo non sarà molto confacente alla nostra regata, però i nostri vogatori che sono fortissimi, sono preparati, sono bravi, non temono assolutamente questo tipo di problema. Proviamo a dire anche cose che magari non sono di conoscenza dei nostri telespettatori, quindi chi rema, i vostri vogatori fanno canottaggio sostanzialmente, praticano questo sport e poi partecipano al palio di Taranto. Sicuramente, loro si allenano praticamente tutto l'anno e aspettano questo tipo di gara, che è una gara fatta, una voga fatta all'impiedi, la cosiddetta voga alla Veneta, si allenano tutto l'anno e non vedono l'ora di mettere a mare le barche per la gara, tant'è vero che domani, in occasione poi anche della festività del patrono di Taranto, San Cataldo, domani la partenza sarà anticipata alle 18.15, durerà intorno ai 23 minuti, 21-25 minuti, questo dipende dalle condizioni meteo del mare, però sarà una gara vincente perché gli equipaggi sono veramente tutti forti. Abbiamo anche una quota rosa, un equipaggio femminile che si sta allenando e cerca di guadagnare ogni anno posizioni nella classifica. Gli equipaggi di solito sono 10, quest'anno però ne partiranno solo 8 perché una barca non è stata convalidata perché ha superato il peso del necessario e invece un altro equipaggio, un vogatore, ha avuto un problema e quindi non partirà. Saranno 8 barche, però 8 barche competitive veramente, tutte tra di loro. La cosa bella è che questa regata viene fatta intorno al borgo antico di Taranto che sarebbe la nostra isola della città vecchia e può essere vista gratuitamente da tantissimi posti. La cosa più bella però per quello che io ne so è l'arrivo nel canale navigabile dove ci saranno veramente migliaia di spettatori a vedere questo evento. Ha parlato di un equipaggio al femminile, ha parlato di un risultato importante per un atleta che ha vinto una medaglia d'oro. Quanto questo sport è donna e secondo lei quali sono le prospettive, Presidente? Allora, è uno sport particolare, devo dire la verità, perché noi facciamo canottaggio a sedile fisso che è diverso dal canottaggio a sedile mobile. Abbiamo tantissime donne veramente e soprattutto nella disciplina della barca di Ciremi abbiamo veramente tantissime donne che sono anche loro molto agguerrite, tant'è vero che nello scorso campionato che è stato fatto in Italia hanno avuto veramente dei piazzamenti veramente importanti. Quest'anno abbiamo cominciato l'attività della voga di Ciremi proprio il 25 aprile con una regata che il Palio di Taranto ha organizzato a Taranto e quindi diciamo che in questa maniera abbiamo aperto anche la disciplina delle gare della di Ciremi. A Termoli andremo a fare il campionato nazionale a settembre. Quindi la competizione sportiva sempre in base al... ecco qui vediamo le immagini alle condizioni meteo favorevoli si terrà intorno alle 18 se non erro, ma ci sono anche iniziative collaterali che fanno da cornice a questo evento importante che il prossimo anno spegnerà la sua quarantesima candelina, un compleanno importante. Sì, noi già quest'anno, ieri per esempio abbiamo fatto la benedizione del Remo con la funzione religiosa e abbiamo aperto in effetti il Palio 2024. Quest'anno facciamo domani, partiremo dal Palazzo di Città insieme al Sindaco che saluterà i concorrenti, andremo all'Arcivescovado per avere la benedizione dell'Arcivescovado e poi tornare a fare la gara. Quest'anno abbiamo una bella novità che facciamo praticamente, tra virgolette, come esperimento perché la regata di luglio sarà fatta all'interno del canale navigabile in notturno, quindi prima volta che il Palio di Taranto ospita una regata notturna. Il canale navigabile alle 21 di sera significa gremito di gente e di turisti, il nostro canale navigabile con il castello aragonese della Marina Militare sono sicuramente simbolo di eccezione per la città di Taranto. E allora aspettiamo di raccontare domani questa importante iniziativa, questa importante manifestazione che poi fa parte della storia della città ionica. Certo, infatti il Palio, ripeto, è nato come una regata per far riportare alla luce le vecchie tradizioni della nostra città e le nostre imbarcazioni sono state costruite da un maestro d'ascia proprio uguali a quelli che usavano una volta i pescatori, prima si ricerca di queste barche dai vari pescatori, le prendevamo in presido, però chiaramente non era competitiva. Hanno un nome particolare le barche? Sì, 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 allora in dialetto tarantino si chiamano schif. Eh, infatti glielo chiedo perché a Brindisi, per il Palio dell'Arca, si chiamano schifariedi, quindi praticamente... Che poi sono le barche di Brindisi, noi un anno, prima ancora che Brindisi si dotasse delle barche, abbiamo prestato le nostre barche proprio per fare la regata, quindi c'è questa collaborazione tra le varie città. E domani insieme ai vogatori che porteranno il Palio, il Palio sarebbe il telo, porteranno questo telo accompagnati da tante figure, ci sarà praticamente la sfilata storica che abbiamo ripreso dopo tantissimi anni, ma anche questo serve come allenamento a quello che noi faremo nel 2025, in occasione appunto di questa data storica e importante per la città di Taranto. Allora io ringrazio Francesco Simonetti, il presidente del Palio di Taranto, con Antenna Sud vi vedrete sicuramente domani perché noi seguiremo questa gara importante, storica e soprattutto ricca di fascino. Ci piace in maniera particolare anche seguire gli sport del mare perché la nostra bella Puglia è praticamente a 900 chilometri di costa e quindi dovremmo veramente concentrarci sempre di più su questo tipo di attività che poi rappresentano anche occasioni per esaltare il nostro territorio. Certo, poi domani con la vostra professionalità delle telecamere che saliranno sui comuni e le guardi di finanza che ci hanno messo a disposizione, domani c'è ancora un'ulteriore cosa particolare perché su una imbarcazione, la giuria ha scelto l'imbarcazione che ha vinto lo scorso anno equipaggiato con Marco Sandi e Antonio Sorace, Vorace, ci saranno praticamente due telecamere, una pop e una prua che riprenderà proprio dal mare e sulla barca il peripro della Città Vecchia. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi. È stato un piacere ospitarla.